Grazie 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 Finito un evento, ecco che si va al prossimo Yeah, Shinsekai Si corre perchè stiamo... Cioè stiamo, adesso sto andando perchè il mio compagno di avventure è tornato a casa Ora ok entrando in Shinsekai e... Allora andando su di qua... Dobbiamo andare su di là Se non ricordo male Si, perchè oggi al Pika Space, quel posto dove c'erano il Disaronno, il Kampari, l'Aperol Dove facevano da mangiare anche il Lampredotto in versione giapponese Oggi c'è un evento di musica e voglio andare là Si chiama... La Notte dei Mille Occhi Non so niente degli artisti che suoneranno Ma... Mi interessa anche per concerti, futuri... Miei? Non lo so, comunque andiamo a vedere Sì... Esatto Questo è un parcheggio tutto dedicato a Hello Kitty Lo volevo già far vedere nel precedente video su Shinsekai Ma... Vabbè non avevo voglia... Così... Adesso non c'è nessuno quindi posso fare tutte le riprese che voglio Devastante, imbarazzantissimo come posto Cioè guardate E' veramente... E' veramente oddio Il parcheggio 24 ore è Hello Kitty Ma piuttosto di vedere queste cose imbarazzanti Andiamo sul posto del concerto Che... Sarà... Dove... Ma... Probabilmente andando su di qui... E... Dovremmo esserci Forse ho sbagliato Si perchè qua ci troviamo proprio sotto la... La Tsutenkaku Quindi... Mi sa che io devo andare un po' più a sinistra di così Proviamoci Cioè... Nadia Passi Mi 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 A presto! No, 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 no. No, 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 no. Oye! Grazie a tutti. 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 Zona dei maturi. Grazie a tutti. 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 Oh no, c'è il parco, però è chiuso. Eh, il parco è chiuso. Porca vacca. Mi viene più lunga. Sì, buona volta. Buona volta. Buona volta. Però... Grazie a tutti. Ma sono già morto. ho capito che comunque andare in bici ogni giorno è troppo poco già da fare qualche centinaio di metri di corsa vabbè che c'ho ho una fotocamera in mano il cellulare in mano che comunque è inutile la borsa neanche a tracolla perché è sulla spalla come hai fatto mago come ho fatto ho corso fin qui e sono morto no veramente già già ieri è stata una giornata difficile perché ho mangiato ma tra l'altro ma sta facendo ma c'era la batteria scarica della fotocamera e quindi vabbè no davvero devo devo fare più esercizio perché anche andando in bici ogni giorno vedo che comunque a correre per qualche centinaio di metri perché già sono morto e quindi un buon proposito non per l'anno nuovo perché siamo già a fine maggio però entro la fine dell'anno magari no devo iniziare a correre veramente perché non posso essere così spompato dopo qualche metro comunque la giornata è andata molto bene l'evento delle birre ricordo sarà vabbè oggi e domani tanto prima che lo carichi passeranno tipo due mesi perché ho indietro talmente tanta roba che vabbè bene siamo in vista dell'Aurocas sto arrivando a Tennoji in tempo incredibilmente ecco tiriamo via tiriamo via la manina Craft Beer Live in Osak è andato benone è stato molto divertente con ovviamente un compagno di bevute che insomma è andato alla grande direi con lui ci si diverte sempre subito dopo Shinsekai al Pika Space con Night of the Thousand Eyes e anche lì è stato molto bello tanti artisti diversi e sto stanchissimo adesso ci sono anche le scale da fare aspetta che tra l'altro di corsa le sto facendo le scale non so perché e vi preannuncio che l'11 agosto molto probabilmente suonerò al Pika Space a Shinsekai e tanta roba insomma sinceramente non me l'aspettavo sono molto felice di questo e siamo arrivati a Tennoji quindi adesso vi saluto ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti